Signori, lo sentite questo profumo di nuovi MMO in arrivo? Bene, perché è un periodo inaspettatamente positivo per chi ha la nostra passione E tra l'altro ci sono delle nuove uscite sulle quali non avrei scommesso un nickelino, un euro, un penny, quello che vi pare Utilizzate pure la moneta che più vi aggrada Per esempio One's Human One's Human... Allora, sulla carta mi sembrava effettivamente un MMO che potesse interessarmi Ma non pensavo di farci un chiusone, sì, un chiusone, impossibile parlare in modo normale oggi Un chiusone simile Ieri mi sono sparata nove ore di live su quel gioco e lo volevo solamente provare Però vabbè, sappiamo Entusiasmo dei nuovi MMO, c'è sempre, poi bisogna vedere quanto dura E, è veramente importante? Quanto durerà? Finché ti diverte? No, che duri una settimana, che faccia due, tre settimane come Palward Che non è un MMO, non c'entra niente Però, per dire, è un gioco che è stato molto popolare per, facciamo un mese, esagerare? Forse tre settimane? E poi basta, nel dimenticatoio Ma adesso ci sono dei nuovi content Ma oggi non parleremo di Palward, quindi non tergiversiamo Perché voglio parlare con voi di One's Human Che cos'è prima di tutto? Ci troviamo davanti a un nuovo MMO Sì, Massive Multiplayer Online Quindi ricordiamoci sempre perché ogni volta vedo confusione sull'etimologia del nome Massive Multiplayer Online Quindi qui ci troviamo davanti un MMO I PS Survivor Con i Ride I Boss Il PvE Il PvP I Dungeon Il Crafting L'Housing Un bel po' di roba Un bel po' di robettina E abbiamo l'utilizzo delle armi da fuoco Quindi si può sparare sia in terza persona che in prima Questo molto molto importante Perché ho notato che c'è confusione anche da questo punto di vista Non è un Destiny Like Destiny Like è The First Descendant Infatti molti mi hanno detto Sara ma non è uguale a The First Descendant? No, non c'entra assolutamente niente con The First Descendant Gioco che tra l'altro io non ho trattato Ma chissà, magari ne parleremo più avanti Troppe uscite tutte insieme Ero occupata su Zelless Ma The First Descendant è un Destiny Like È un cooperativo simil Destiny Mentre One's Human non ci azzecca niente È un MMO Survivor Un'altra tipologia Che cosa abbiamo davanti? Abbiamo un MMO che potrebbe effettivamente durare Due settimane come anni Attualmente il gioco ha già un bel po' di contenuti E oggi vi volevo raccontare un pochino di tips Un pochino di aneddoti Per cercare di rendervi più fruibile l'esperienza E quindi più semplice anche l'approccio A questo nuovo One's Human Il gioco parte ovviamente con il Character Creation Come tutti gli MMO Dove creerete il vostro avatar Da lì dovrete affrontare un tutorial Nel quale vi insegneranno un attimino A utilizzare le armi Gli attacchi in corpo a corpo E vi farà capire Quelle che sono le meccaniche di combattimento del gioco Ovviamente solo per attaccare Insomma due mobettini Che trovate all'inizio del laboratorio C'è anche una trama principale C'è questa signorina Che ci racconta diverse cose Su queste dimensioni Che si uniscono solo in determinate condizioni Quando ci sono le creature Questi deviance Che si stressano tantissimo E quindi producono questa sostanza Che fa sì che le due dimensioni si tocchino Quindi vabbè abbiamo anche della lore Non mi occuperò di questo Perché sono stata a sentire solo Penso le prime cento righe di dialogo Dopodiché mi sono stufata Ma più che altro perché stavo in vocale con gli amici Parlavamo tutti insieme E quindi ho iniziato a schippare Perché se sei per conto tuo E stai giocando in single player Ci sta che tu riesca a seguire la trama Ma quando sei in vocale con il tuo party Con gli amici Diventa un po' complicato Primo consiglio che vi do È giocatelo con qualcuno Perché È un MMO Allora ci sta Si può giocare anche da soli Potete giocarlo da soli Perché comunque è un survivor Vi consiglio in quel caso Di andare sui server PvE Perché già i server PvP Sono un po' più complicati Dal punto di vista della gestione Soprattutto della difesa Della vostra casa Perché la vostra casa Potrebbe essere raidata E distrutta Solamente in alcune zone però Perché anche il PvP è istanziato Quindi anche se andate sui server PvP Questo non vuol dire che menerete le mani Costantemente e continuamente Contro altre persone Ci sono comunque alcune zone PvP Non è tutto PvP Server PvE invece Semplicemente Nessuno vi può raidare casa Se non i mob Perché i mob possono farlo Ma adesso andiamo con ordine Contini Ho preso diversi appunti Per darvi un po' di consiglini Partiamo da quella Che secondo me È la feature Più In feature Feature Più interessante Di questo gioco Ovvero i Deviants Che cosa sono i Deviants? Sono queste creature Tratte dalla mitologia giapponese Che noi troveremo all'interno del gioco E ce ne sono di tutti i tipi Cioè io ho trovato da Omini con la testa cubica Che minano per te E ti portano dei materiali in casa A gatti Ho trovato un gatto gigante Che mi fa la guardia a casa E tra l'altro fa sì che il mio personaggio Possa riposare meglio I Deviants sono Qualcosa che richiama un pochino i Pokémon Se vogliamo Perché li troverete in giro E dovranno essere catturati Ma la cosa carina è che Allora Non è carino che non possano essere catturati al 100% Mi è capitato di fallirne un paio Per fortuna gli altri li ho catturati quasi tutti Però Succede che questi Deviants Una volta che li catturate E li mettete all'interno della teca Possono darvi dei benefici I benefici Ci sono tre diversi tipi di Deviants Ci sono quelli territoriali Ci sono quelli che da combattimento Che potete portare con voi E ci sono invece quelli che vi farmano materiali Quelli territoriali Per esempio il gatto che ho trovato ieri Fa sì che il mio personaggio Come dicevo prima Possa riposare più tranquillamente Quindi ricaricare prima la barra della vita Quando riposa in casa Per esempio abbiamo invece quelli che farmano Come testa a cubo Che si mette a farmare materiali Nelle zone intorno a casa vostra E quindi vi troverà Vi riporterà a casa dei materiali E troverete la teca piena di materiali E poi ci sono quelli da combattimento Che sono quelli che attivate Non so se utilizzate mouse e tastiera Con la E Quindi li equipaggiate Una volta che li avete equipaggiati E li vedete nello zainetto Li potete utilizzare proprio in combat C'è anche la ruota Con i vari comandi Per esempio io ieri stavo utilizzando Un sacchietto dell'umido Che può fare Sembra un sacchietto dell'umido In realtà è una slime Che può trasformarsi in una slime difensiva Che ti crea un muro E tu puoi nasconderti dietro al muro Per sparare agli avversari Quindi sicuramente la cosa Secondo me più carina I once humans sono i deviance È una cosa molto particolare Saranno da catturare Trovare in giro E Altra cosa importante Saranno da rendere felici Perché Perché Se notate Nella parte bassa Sinistra Delle loro statistiche Ci saranno Delle scritte Dove vi diranno Per esempio Questo deviance Vuole la luce rossa E quindi Gli andate a piazzare Una lucina rossa sopra In modo che sia contento Di avere la luce rossa O luce verde O luce blu Ci sono tre Diverse tipologie di luci Per quello che ho visto Finora Ci sono le luci normali Che utilizzerete Per l'ambiente Insomma per la casa Dato che c'è appunto Anche l'housing Ma ci sono Anche le lucine Proprio Di tre diversi colori Che i deviance apprezzano In più Alcuni Saranno amanti della musica Quindi apprezzeranno Magari se Accendete la radio E gliela mettete vicino Oppure se suonate Il pianoforte Può anche suonare Il pianoforte Veramente particolare Questo bello Non credevo Mi avrebbe preso così tanto Ma sembra davvero carino Poi Altra cosa Importantissima Parlavamo dell'housing Parlavamo della casa Io ieri ci sono Impazzita Più volte Perché non riuscivo a capire Inizialmente Come spostarla Se piazzate L'oggetto Che vi serve Per delimitare Il territorio E volete spostare La vostra casa Potete spostare La casa Entrando nel menu Di costruzione E spostandola Direttamente con Z Quindi che cosa fate Proprio La selezionate Dal menu di costruzione Poi con Z Potete riposizionarla Da un'altra parte Considerate che Io l'ho proprio Spostata di chilometri L'avevo piazzata In un punto A destra della mappa All'inizio del gioco Dove però Non potevo espandermi Più di tanto Perché c'erano delle strade Considerate che Dovete avere abbastanza Spazio Per poter espandere Il vostro territorio Il vostro terreno Se ci sono delle strade Che lo delimitano Non potrete Spostarvi Più di così Non potrete ampliarlo Quindi io cosa ho fatto Mi sono fatta un giro Sono andata a cercare Delle zone Un po' piane Dove ci fossero Magari dei minerali Un po' di animali Alberi E mi sono trovata Una zona più grande Dove poter espandere la casa Poi vabbè il fatto che Anche i miei amici Abbiano fatto la stessa cosa E abbiamo creato Tipo una specie di Quartierino americano Avete presente I quartieri americani Con le case tutte uguali Ecco Altra cosa importante Ecco case tutte uguali Perché potete utilizzare Direttamente il blueprint Per creare la casa Quindi Se siete bravi a costruirla Potete farla da soli Ma ci sono Se andate in fondo Nel menu di costruzione Ci sono proprio I blueprint Che sono Sono praticamente I progetti Che vi servono Per costruire Delle case prefatte Ci sono case macchine Case camion Che quindi potrete spostare Tipo camper E ci sono Torrette O delle ville Per esempio Noi abbiamo Tutti utilizzato Il progetto della villa E poi per esempio Ho iniziato ad espanderlo Quindi a creare Delle costruzioni A fianco Per renderlo Insomma più grande E più spazioso Se avete voglia Di costruire La vostra casa Potete farlo tranquillamente Altrimenti potete utilizzare Il blueprint Il progetto Per farla direttamente Ve la costruisce Così Già così Com'è Ed è comodo Anche per chi Ha nel server pvp E si trova La casa distrutta Ma attenzione Perché potrete Trovare la vostra Casa distrutta Anche nei server pvp Come I boss I mob Ogni tanto Attaccano casa vostra In base alle condizioni Del territorio Tra l'altro C'è anche un oggetto Molto particolare Che mi sono segnata Si chiama Aspetta l'ho scritto Il Stardust Resonant Filter Ecco Lo Stardust Resonant Filter Io ieri ho avuto La bruttissima idea Di provarlo Che ero livello 4 Livello 5 Ed è stata tipo L'unica morte Che ho fatto Praticamente in tutto ieri Perché quando attivate Lo Stardust Resonant Filter Che è questo filtro Giallo Molto grosso Parte questa Nightmare Purification Se la fate partire voi Ovviamente All'interno Ci sono queste Stardust Che vanno Purificate Ed è un materiale Che poi ci servirà È un materiale Raro Che dovremmo raccattare All'interno del gioco Perché ci servirà Per potenziare Praticamente Da quello che ho capito Prendete con le pinze Perché anche io sto imparando tutto Ma ci servirà Per potenziare Il nostro armamento E tra l'altro E tra l'altro Dovrebbe aprire Dei rift Cioè ci sono diversi Modi per utilizzare Le Stardust Anche materiali di craft Utilizzano le Stardust Ma è un materiale Appunto molto importante Molto raro L'unica cosa State attenti Non fate come ho fatto io Che ho fatto partire Ho detto Oh sì Nightmare Vai vediamo che cosa succede Ecco Un'ondata di mob Ha attaccato La mia casa Adesso Io purtroppo Ero livello basso E quelli erano livello 15 Quindi ne ho uccisi Un bel po' Però non sono riuscita A resistere fino alla fine Perché hanno iniziato A distruggermi le strutture Quindi che cosa succede Che prima di fare Di utilizzare Questa purificazione E di far partire Il rito Vi consiglio Di fortificare La vostra casa Quindi ecco Se come me Ce l'avete di legno La mia è ancora di legno Ma il prima possibile Cercherò di Sistemarla Appunto con i mattoni E di indurirla un po' Perché i mostri Attaccheranno Casa vostra E bisognerà Difenderli Quindi potete anche Chiamare magari I vostri amici E dirgli Guardate sto per far partire Il purificatore Venite a darmi una mano Ma se come me Lo provate da soli E poi vi trovate La casa distrutta Quindi mi raccomando È importante Ma Fatelo partire Solo quando siete In condizioni Di poter combattere Quindi Vi mettete da parte Le munizioni Fortificate la vostra casa E state pronti A difendervi Da ondate di mob Se morite Ci sono Gli adrenaline shot Gli adrenaline shot Possono essere Craftati Sempre con le Stardust Appunto Il materiale Piuttosto raro Di cui vi parlavo Prima Piuttosto raro Cioè non è che è Così raro Però diciamo che è uno Dei materiali Che è più importante All'interno Più importanti All'interno del gioco Ed è uno di quelli Un pochino più difficili Da fare Quindi vi sconsiglio Di utilizzare Gli adrenaline shot Per resuscitarvi Per ressarvi Quando morite A meno che proprio Non siate in mezzo A che non so Siete in un dungeon Con dei vostri amici State facendo il boss Finale Manca così di vita Ucciderlo E allora magari utilizzate Gli adrenaline shot Per ressarvi Anche se in realtà Possono aiutarvi loro Quindi secondo me Conviene risparmiarli E utilizzarli Veramente solo In condizioni estreme Se siete magari Molto molto lontani Da casa vostra E non so Stavate facendo qualcosa Di particolare Però altrimenti Risparmiate le stardust Che poi serviranno Parliamo delle armi Perché il gioco Offre una ruota Di armi Ampissima Ci saranno veramente Tantissime armi Tantissime armature Che potrete trovare E craftare Ma attenzione Perché a me è capitato Di trovare Delle armi in giro E delle armature Che mi sembravano buone Però poi mi sono accorta Che non potevo ripararle Quindi Mi raccomando Se dovete potenziare Degli equipaggiamenti Date sempre la priorità Agli equipaggiamenti Che voi avete craftato Quelli di cui trovate Il blueprint appunto I blueprint sono i progetti Quando andate in giro Per la mappa Ci saranno delle casse Che vi daranno Dei blueprint Specialmente quelle rosse Ecco Se trovate le casse rosse Che sono un po' più nascoste Un po' più difficili Da trovare Puntatele Perché quelle Hanno quasi sempre I blueprint all'interno E con quelli Potrete craftare Armi e armature Ci saranno sicuramente Delle armi Anche molto forti Che potrete trovare in giro E stessa cosa Armature Vi sconsiglio Di potenziarle Perché poi vi trovate Come è successo anche a me Che non le potete riparare Perché Potete fare la riparazione Solo degli oggetti Che voi avete craftato Quindi sconsigliato Potenziare armi Che trovate in giro Armi e armature Che trovate in giro Cioè se dovete investire Dei materiali Per il potenziamento Del vostro equipaggiamento Fatelo su oggetti Di craft Così li potete Anche riparare E non li dovete Buttare via Una volta che Si sono rotti Ecco Questo è molto Molto importante Considerate che I blueprint Sono una delle cose Fondamentali All'interno di One's Human Perché quella È la vera progressione Del vostro personaggio Sì C'è Ci si livella C'è la parte survivor Però Il gioco Ha una componente Di craft Molto molto importante Dato che si unisce La parte mmo Alla parte survivor Quindi mi raccomando Andate a cercare I blueprint E quando li trovate Potrete craftare Insomma Tra le armi migliori Vi consiglio Tra le armi L'utilizzo Della crossbow Della balestra Perché È tra quelle Più economiche E fa anche Un sacco Di danni Io ieri Ho provato Un dungeon Un dungeon Un boss Con Con degli amici Per esempio Loro avevano Tutti la balestra Facevano uno Scroscio di danni Io ne facevo Pochissimi Perché stavo Utilizzando il mitra Perché il mitra Va potenziato Ecco dopo Cioè Se lo potenzi Poi diventa anche Un'arma forte Mentre la crossbow È forte fin da subito È molto stabile Avete la possibilità Di fare degli headshot Quindi di fare I colpi alla testa O di colpire Le parti luminose Rosa Che vedete Sui Sui mostri Sui boss Che sono solitamente I loro punti deboli E vi permette Proprio di essere Precisi E di fare Un sacco di danni Tra l'altro Cosa importantissima Non Cioè Non richiede L'utilizzo Di munizioni Costanti Perché La cosa bella Della crossbow È che potete Recuperare le frecce Quindi Quando uccidete Un mob O un boss Poi vi potete Riavvicinare Quando trovate Il sacchettino Bianco per terra E potete recuperare La freccia Che avete utilizzato Per ucciderlo Questo vi permette Di avere un riciclo Costante Di munizioni E di non doverle Craftare di continuo Comunque non abbiate Paura di craftare Munizioni E di utilizzare Anche le armi da fuoco Perché sono forti Anche quelle Solo che le armi da fuoco Iniziano a diventare Più forti Quando vengono potenziate Mentre la crossbow È forte Fin da subito Ecco ieri L'ho imparato a mia spese Perché mi sono resa conto Che non facevo Un cacchio di danno Quando non la utilizzavo Mentre quando la utilizzavo Pam pam Tiravo giù tutto Quindi Crossbow Chissà Forse sarà da utilizzare Anche dopo in endgame Non lo so Per il momento In early game Sicuramente È una buona scelta Parliamo un attimo Della parte survivor Perché come potrete notare Il nostro personaggio Avrà la fame E la sete Per quanto riguarda La sete È molto facile In realtà Riuscire a bere Perché basta Che andate In uno stagno Recuperate dell'acqua La fate bollire E una volta che la fate bollire Ve la portate Ve la portate dietro Io mi sto portando Sto andando in giro Con 30-40 bicchieri d'acqua E mi raccomando Di bere costantemente Fa ridere Berrò anch'io Ricordatevi di bere costantemente Perché se non bevete Il vostro personaggio Correrà lentissimo Quindi sempre Tenete sempre Sott'occhio l'idratazione E cercate di tenerla alta In modo da potervi muovere Al meglio All'interno del gioco Per quanto riguarda invece Il cibo Anche il cibo È importante Perché influenza La rigenerazione Della stamina Quindi Anche lì Cercate sempre Di stare con la pancia piena Perché in quel modo Rigenererete Più stamina Più velocemente Perché se Vi trovate Nella condizione di starving Quando state Morendo di fame La stamina Praticamente Non si rigenera Un cavolo Tra l'altro Ci sono degli oggetti Tanti oggetti Che potete craftare Non ignorate Mi raccomando La La zona di cooking La parte della cucinetta Il cucinotto Dove potete craftare Diverse tipologie Di cibi Una cosa importante Che ho scoperto ieri Anche lì A mie spese Sono i gammi Come si chiamano I sanity gummi I sanity gummi Sono praticamente Queste gomme Che potete craftare Tra l'altro Non costano Molti materiali Sono abbastanza facili Da fare Vi consiglio di portarle Sempre con voi Perché queste Vi permetteranno Di poter Togliere Il debuff Che vi viene Perché Non so se notate Mano a mano Che andate avanti nel gioco Ci sono delle zone Che sono contaminate E la vostra sanità Praticamente Mentale Scende Vi Prendete un debuff Che non vi fa curare Più di tot Per toglierlo Servono appunto Le sanity gummi Quelle le potete Tranquillamente Craftare Un altro oggetto Che potrete craftare Facilmente E vi permetterà Di trovare Sia Cibo Quindi vi darà Sia sazietà Che La parte appunto Di sanità Mentale Sono i funghi I funghi In realtà Non sono complicati Da fare Vi consiglio Di attivare Il perk Perché ci sono Tutti i perk Passivi Che possiamo Attivare nel gioco C'è un perk Che Quando il cibo Va male Lo trasforma Automaticamente In fungo Considerate che è una cosa Che accadrà Perché dopo 24 ore I cibi Che avete craftato A meno che Non siano Nelle scatolette Perché quelli Nelle cans Nelle lattine Non vanno male Mentre quelli Tipo la carne Tutte le cose Che insomma Avete cucinato E craftato Dopo 24 ore Vanno male Ecco Attivate il perk Che vi permette Di trasformare Il cibo Che va male In funghi In questo modo Avrete sempre Costantemente Nuovi funghi Che potete utilizzare Per fare gli spiedini Che vi danno Sia sazietà Che sanità mentale Molto importanti Un ultimo consiglio Che vi do È per quanto riguarda Gli spostamenti Quindi Quando utilizzate La moto Che prenderete Andando avanti Nella trama principale E fate Mi raccomando La trama principale Non lasciatela indietro Anche le missioni secondarie Sono utili Ma la trama principale È la cosa più importante Perché vi permette Poi di sbloccare Le diverse feature Le diverse componenti Del gioco Ecco la moto Va a benzina Dove si trova La benzina Si trova Nelle macchine Che trovate A bordo strada Magari Ecco Dipende su che server Siete In server Molto molto Popolati Se andate Nelle strade principali È facile Che non troviate nulla Perché Ci sarà già passato Molto probabilmente Qualcuno E avrà già Depredato Avrà già Aperto Il C'è il bagagliaio Praticamente Ti fa aprire il bagagliaio E lì ci dovrebbe essere Il fuel La benzina Però Nelle strade principali È molto probabile Che siano già stati depredati Quindi vi consiglio Magari di andare A infrattarvi Un pochino Nelle viuzze E cercare Appunto Le macchine E i mezzi Dal quale Poter prendere La benzina Che vi servirà Poi per il vostro mezzo Il vostro mezzo La vostra moto Può essere riparata Nel garage Quello lo craftate Andando avanti Appunto Con la trama principale Vi chiederà A una certa Di craftarlo E quello Lo potete tranquillamente Mettere di fianco a casa E fare le riparazioni Alla vostra moto Perché la moto Si distrugge Sì E se Tipo State correndo State andando Con la moto E decidete di lanciarvi Da un burrone Sì Voi potete andare In glide Utilizzandoli Il corvettino rosso La moto no La moto si schianta E si distrugge Quindi in quel caso La dovrete riparare Altri consigli Per il momento Non mi vengono in mente Dato che anch'io Ho iniziato a giocarlo ieri Quindi Quello che vi dico È quello che ho imparato Praticamente In nove ore circa Di live ieri Detto ciò Io andrò sicuramente Avanti a giocarlo Anche in questi giorni Spero che il gioco Possa durare Perché sembra avere Veramente molti contenuti Sembra essere davvero divertente Però Chissà Solo il tempo Ce lo potrà dire Non possiamo purtroppo Prevedere il futuro Ma spero che il gioco Possa Possa continuare Ecco Su questa Su questo trend Positivo Visto che secondo me È davvero carino E tra l'altro È bello vedere appunto Free to play Che non hanno In nessun modo Lo shop Che pesa Sul gameplay Infatti Nello shop Troverete le skin Troverete la cosmesi Con cose estetiche Quindi Dei blueprint Tipo di vetro Per la casa Che penso prenderò Io già mi sono presa Una skin Perché il gioco Secondo me È molto carino Per essere un free to play Secondo me Hanno fatto un ottimo lavoro E quindi mi faceva piacere Supportare gli sviluppatori Prendendo una skin Quindi già ne ho presa una Bugia in realtà Mi piaceva No allora Ci metto anche la parte Da buona samaritana Del si supporto Gli sviluppatori Quella skin era fichissima Quella skin era veramente bella Io non ho resistito Cioè era troppo bella Troppo carina E quindi Buone once human Divertitevi Ci vediamo in live Quando volete Tutti i pomeriggi Io dalle 16 Mi trovate quasi sempre In diretta Più o meno Fino alla prima serata Detto ciò Buon divertimento E ci vediamo in game Ciao Mi stavo dimenticando Come posso dimenticarmi Attivate la campanella O insomma Iscrivetevi al canale Troppe persone Che guardano i miei update E non sono iscritte Male 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 Iscrivetevi dai Che non vi costa niente Ciao belli A presto E grazie per aver seguito E grazie per aver guardato